Salve a tutti sono Andro92355 e oggi in questo video un po' colto volevo farvi un appello vi volevo invitare a iscrivervi al canale di youtube anch'io. Purtroppo come sapete questo canale l'ha gestito da Omar Palermo che purtroppo è venuto a mancare e purtroppo come sappiamo lui faceva tanti video ma lui oltre a fare quei video dove purtroppo mangiava tanto ha fatto anche tanti video molto interessanti dove gli tratteneva molto la gente e che magari spiegava bene delle cose ci sono alcuni video che che spiega delle cose di storia eccetera e mi sembra che questi video spiega molto bene. Purtroppo in passato qualche video io l'ho visto ma ho visto poco solo adesso mi sto iniziando a interessare un po di più sul suo canale che sto guardando qualche video in più e vorrei fare un appello di iscrivervi al suo canale poi più più iscritti più il suo canale riceve monetizzazione che magari magari la sua famiglia se lui si rada cede al suo canale potrà magari i soldi che riceverà col canale di youtube anch'io magari li potrà dare in beneficenza cose così se possono danni beneficenza i soldi del con i soldi del canale comunque ancora io invito tutti iscriviti al canale di youtube anch'io un saluto da under 92 345 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti